un mistero controverso in equilibrio precario tra il mito e il fatto storico e forse proprio per questo ancora più interessante quello che vede coinvolta la calabria e per l'esattezza di riolo è un mistero che nonostante fornisca molte risposte in realtà ne lascia altrettante dati storici documenti personaggi reali ma nessuna reale prova tangibile che dimostri che in quella terra siano stati scoperti degli scheletri dei giganti eppure eppure questa storia sembra avere qualche fondo di verità ma partiamo dall'inizio il 24 giugno 1663 viene inviata una lettera dal medico giovanni battista cappucci all'importante e rinomato luminare della medicina di quell'epoca marcello malpighi in tale lettera cappucci informa il dottor malpighi che durante dei lavori era stato ritrovato immerso in una strana pece bruna uno scheletro dalle innaturali dimensioni quasi di tre metri sperai nell'aprile prossimo aver materia di scrivere a vostra signoria eccellentissima una lunga lettera sopra il ritrovamento di un sepolcro antichissimo aperto nella campagna di tiriolo terra di questa provincia et in esso d'un ossatura di cadavere gigantesco innante in una notabile quantità di cerume un dente anche mi fu promesso dal medesimo cadavere che correvoce sia stato di 15 palmi di statura c'è da dire che il dottor cappucci non fu presente al momento del ritrovamento il che ci pone con diffidenza nei confronti della lettera ma ciò nonostante la corrispondenza che intercorre è tra due luminari nel campo medico quindi ci fa presupporre quanto meno una buona fede nel comunicare la scoperta ad infittire il mistero ad ogni modo e il fatto che di documentazioni di ritrovamenti come questa ce ne furono altre nell'opera calabria illustrata dello storico locale il cappuccino padre giovanni fiore vissuto anche egli nel seicento viene menzionato il fatto che a catanzaro essendo una terra antica ricca di reperti vengano ritrovati giornalmente sepolcri di antichi giganti cosa supportata secondo alcuni anche dal fatto che l'antropologo scozzese crawford tate remage nel libro viaggio nel regno delle due sicilie nel 1828 menzioni di aver ricevuto un manoscritto da un altro storico locale nel quale viene riferito il ritrovamento di un cranio fuori misura insieme a delle armi bisogna però dire che nell'opera di crawford non viene menzionato esplicitamente il manoscritto di giovan battista ursano il chiarico a cui viene attribuito ma è altresì appurato che tiriolo così come le zone limitrofe sia un suolo molto ricco di reperti archeologici che venivano anche scovati normalmente dai contadini mentre eravano la terra qualcosa quindi è stata trovata ma cosa e soprattutto che fine hanno fatto tutti questi strani ritrovamenti considerando l'epoca e la concezione di conservazione archeologica ben lontana dalla nostra e il fatto che spesso fare i ritrovamenti fosse gente totalmente strana al settore non è difficile pensare che se scoperti questi reperti possano essere andati perduti o danneggiati se non addirittura finiti in mano a collezionisti privati d'altra parte anche crawford riferì che nel museo di tiriolo che lui visitò vi erano molte cose anche curiose ma mal organizzate ad ogni modo le presunte testimonianze sulla scoperta degli scheletri dei giganti di tiriolo arrivano sino ai giorni nostri per l'esattezza agli anni 60 di quest'ultimo rinvenimento tuttavia nonostante vengano menzionati nomi e luoghi non si trovano informazioni sufficienti da lasciarci pensare che tale storia possa essere affidabile sebbene si parli di strani ritrovamenti di scheletri un po in tutto il territorio della calabria quel che è certo è che tutto il territorio del tiriolo è ricca di reperti storici che risalgono alla popolazione italica del quarto secolo avanti cristo tra i quali una tomba monumentale il cui ritrovamento di scheletri con tanto di corredo funerario e armi tanto ci ricordano le scoperte menzionate tra il seicento e l'ottocento quindi niente giganti in realtà la storia è controversa e andrebbe ulteriormente approfondita visto che anche alcuni studiosi omerici tra cui franco mosino hanno seriamente considerato il sud italia come lo scenario reale dell'odissea tra cui la calabria come terra dei giganti affrontati da ulisse è possibile quindi che sia esistita un'antica popolazione italica dalla struttura fisica molto più alta rispetto a quella più minuta meridionale forse il mito di tale popolazione si è perpetrato e appunto ingigantito nel corso dei secoli fino a noi oppure c'è ancora molto che non sappiamo del nostro territorio e degli abitanti antichi che popolarono le terre italiche la risposta è dura a darsi ma voi cosa ne pensate è possibile che sia esistita una popolazione di giganti avete mai sentito storie in merito nelle vostre regioni scrivetemelo nei commenti se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e regalatemi una piccola condivisione se non l'aveste già fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella io vi do appuntamento la prossima settimana con un altro racconto dalle ombre e ricordate mi trovate anche su instagram e facebook alla prossima